Un omaggio alla donna sarà la convention organizzata da Forza Italia per domenica prossima a Bari, un'altra manifestazione dopo quella del 21 febbraio a Roma organizzata da Raffaele Fitto, il ricostruttore del partito, ma quella di domenica è organizzata da Francesco Schittulli, candidato alla presidenza della Regione Puglia e possibile collante dei forzisti pugliesi, divisi tra Raffaele Fitto e il commissario regionale azzurro Luigi Vitali. Domenica ci saranno parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e simpatizzanti. Arriveranno Giovanni Toti, Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliariello, Fabio Rampelli e non si esclude la presenza di Angelino Alfano, leader del nuovo centrodestra. La convention, dice Schittulli, si tiene l'8 marzo perché voglio rendere testimonianza alle donne, dalle quali io ho imparato tutto. Non ci sarà Fitto che invece il 15 marzo nel capoluogo pugliese svolgerà un'altra convention. L'intenzione di Fitto è lanciare la sfida alla sinistra e inaugurare la campagna elettorale per le regionali, in cui, ha detto il parlamentare europeo, investiremo tutte le nostre forze ed energie per il successo del nostro partito e della nostra coalizione. Intanto il commissario Vitali annuncia che domani si dimetterà dalla carica di consigliere comunale di Francavilla Fontana. Devo spiegare ai miei elettori, a quelli di Forza Italia e ai miei consiglieri comunali e alla città tutta il perché. È una scelta dolorosa ma necessaria, che faccio per amore verso il mio paese e per rispetto verso i cittadini. Queste le parole di Luigi Vitali in un comunicato apparso su Facebook poche ore fa. L'incarico di commissario di Forza Italia spiega Vitali è incompatibile con il ruolo, pure prestigioso, di consigliere comunale.